Parcheggi vuoti come le corsie dei reparti. Anche i salernitani hanno paura del coronavirus e si tengono lontani dai negozi cinesi. La conferma arriva da un tour che abbiamo effettuato questa mattina in tre grandi negozi cinesi situati nella zona orientale di Salerno. Si contano sulle dita di una mano i clienti trovati all'interno degli esercizi commerciali dove però i titolari hanno preferito non rilasciare dichiarazioni. Alla nostra richiesta di effettuare un'intervista rispondono in due che non parlano bene l'italiano mentre una terza proprietaria dichiara che è normale lo scarso afflusso per il mese di febbraio. Ma è davvero difficile crederle mentre gli scaffali sono pieni di articoli di Carnevale e San Valentino. I reparti invece terribilmente vuoti e le immagini raccontano più di quanto loro siano disposti a dire. Abbiamo girato diverse corsie in tre differenti negozi. Chi è solito effettuare acquisti in questi grandi magazzini che vendono di tutto da articoli per la casa all'abbigliamento sa che non c'è ora della settimana in cui non è difficile trovare file gente alle prese con gli acquisti ed invece le immagini testimoniano come l'allarme per un presunto contagio del virus che arriva dalla Cina abbia dato un netto freno alle vendite.